La disomogenità e non contiguità dei territori e il pronunciamento di parziale illegittimità da parte della Corte Costituzionale del Decreto Madia sul riordino della pubblica amministrazione dopo il ricorso della Regione Veneto, sono i presupposti sui quali si baserebbe la richiesta che CNA Cremona è pronta a rivolgere al Tribunale Amministrativo Regionale per bloccare l'esecutività della legge che prevede l'aggregazione delle Camere di Commercio. Per quanto riguarda Cremona, ne impone l'unione non solo con Mantova ma anche con Pavia. Ne abbiamo parlato con l'avvocato Antonino Rizzo, esperto di diritto amministrativo e legale dell'Associazione degli Artigiani. Il decreto legislativo che ha disposto il riordino delle Camere di Commercio e la loro aggregazione, alcune parti della quale, con una sentenza del novembre dell'anno scorso, sono state dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale. Da una parte il territorio pavese sognava l'autonomia o l'aggregazione con Milano, dall'altra Mantova e Cremona, che proprio per la peculiarità dei territori si erano organizzati per una maggior tutela, compreso il mantenimento della sede cremasca della Camera. Tutto in fumo. Se fra Cremona e Mantova un minimo di omogeneità c'è, fra Cremona e Mantova da un lato e Pavia dall'altro, non c'è assolutamente correlazione. Cioè gli interessi economici di Cremona chiaramente non trovano riscontro nella realtà economica pavese. E Cremona verrebbe ad essere, quindi, per il minor numero di imprese rispetto a Mantova e ancora di più a Pavia, l'anello debole del matrimonio a tre.